Tirenze, Villa Bardini, siamo in questo ambiente quasi bucolico ma un passo dalla città dall'Arno per God Save the Wine, una missione importante che ci siamo presi stasera di salvare il vino, perché il vino è attaccato da tutte le parti e con questo festival organizzato a Firenze Spettacolo abbiamo deciso di trovare una serie di motivazioni ci facciamo aiutare da produttori che sono stati con noi quest'avventura siamo in Franciacorta, ovviamente le bollicine ci vogliono banalmente ci tirano su e poco, però effettivamente una vita senza bollicine sarebbe difficile da affrontare come mai il saten di Conta di Castaldi ci dimostra che il vino deve essere salvato? beh, la cosa più immediata che mi viene in mente è sicuramente il saten di Conta di Castaldi il saten della Franciacorta va salvato perché senza le bollicine non si può festeggiare quindi direi che un ottimo motivo per continuare a produrlo e averlo io al pubblico non lo dico, è il mio Franciacorta preferito perché io non credo a donne perché è particolarmente dolce, delicato, non è vero solo da ragazzo, dai, dimmelo si può anche... diciamo che sicuramente la tendenza di questo vino è di piacere alle donne proprio perché ha questa caratteristica non tanto di dolcezza quanto di morbidezza piace molto anche agli uomini, insomma, questo non significa che sia solo e soltanto per le donne piace agli uomini perché comunque è un vino, lo trovo molto interessante già il nome evoca un qualcosa di molto interessante, molto caldo per cui viene utilizzato per condividere dei momenti di piacere noi abbiamo sicuramente puntato sul saten perché il saten è il tipico vino che rappresenta la Franciacorta non ci sarà mai al mondo un altro vino che si chiamerà saten che derivi da un territorio fuori dalla Franciacorta per cui è un vino importantissimo il vino e le bollicini ovviamente sono abbantaggiati però effettivamente è bello, cioè a me questo vino piace che è effettivamente piacione è bello complesso, si sente subito di che pasta è fatta però riesce anche a non avere troppe smancerie riesce ad essere bello dritto, deciso questo corpo e buca rimane sempre indeciso se è l'essere dolce, se è l'essere amarognolo se è dare la botta di freschezza oppure di distendersi e secondo me è uno di quelli perfetti per le vittorie che hanno, ma anche per i secondi posti sono specializzati ai secondi posti quindi devo specializzare in questi vini che ti fanno festeggiare che ti coccolano un po' e che effettivamente si presta molto bene a spiegare che bisogna salvare adesso vedremo l'effetto che fa su tutte le persone cosa è stato riempiendo i banchini giù